L'alternanza scuola-lavoro si è trasformata da quello che doveva essere all'inizio uno strumento di formazione per gli studenti all'interno delle scuole in moltissimi casi in un elemento di assenza di formazione e sfruttamento in alcuni casi. Dopo gli studenti che sono scesi in piazza, anche i sindacati oggi a ricordare quanto sia importante la sicurezza nei luoghi di lavoro, ancora più se si parla di studenti. Abbiamo un dialogo con loro e cercheremo anche di costruire a livello nazionale la possibilità di andare a fare formazione anche da parte dei nostri RLST formati dai sindacati nelle scuole. Nel rispetto delle norme della Costituzione c'è anche la prevenzione e la salute nei luoghi di lavoro. Le scuole dovrebbero essere il punto d'avvio di una discussione fatta sulla sicurezza, sulla formazione, sull'informazione e quindi non un modo per legalizzare in qualche modo un abbassamento e una performance lavorativa a un costo diverso, ma invece un momento formativo a maggior ragione per partire proprio anche dagli studenti che un domani arriveranno sui posti di lavoro. Spesso quello che accade è il fatto che la formazione sia sempre a carico delle aziende. Può essere questo il motivo per cui poi magari si tralascia sul fronte della sicurezza, sul fronte anche remunerativo? Investimenti in formazione e investimenti in tecnologia. Non si può pensare che nel 2022 la tecnologia sia usata soltanto per andare avanti, per la produttività a tutti i costi. dobbiamo realizzarla in maniera che serva anche per la prevenzione. Non si può pensare, come è successo anche in passato, che vengano tolti degli strumenti di protezione agli strumenti per aumentare la produttività. Per quanto riguarda le segnalazioni che abbiamo ricevuto negli anni degli studenti, che o l'alternanza scuola-lavoro si trasforma in una sorta di faccio le fotocopie, porto il caffè, oppure andiamo direttamente dal bianco al nero dove invece vengono posti questi ragazzi a fare mansioni su cui non sono minimamente preparati e non hanno ricevuto la giusta formazione e di conseguenza escono fuori da questa esperienza paralavorativa in maniera completamente sconvolta. L'altro aspetto, e se ne parla ancora troppo poco, è quello dei subappalti. L'80% dei morti sul lavoro vengono da aziende che lavorano in subappalto. Questo vuol dire che non c'è formazione di nessun tipo su addetti che magari vengono assunti a tempo determinato per 5-6 mesi. Sarebbe necessario migliorare i rapporti con le aziende in parte sì, ma prima ancora bisognerebbe migliorare la struttura del mercato del lavoro italiana e la struttura delle scuole italiane, perché se la scuola non riesce a coniugarsi adeguatamente con un mercato del lavoro eco e più solidale, siamo punto a capo e proprio questa è la mancanza principale.